Questa mattina gli agenti della Questura di Reggio Calabria hanno messo agli arresti domiciliari 4 persone, 2 donne e 2 uomini, indagati per i reati di violenza o minaccia per costringere a commettere reato ed intralcio alla giustizia, commessi in concorso tra loro. Questi 4 arresti sono scaturiti dalla recente operazione Masnada che aveva portato all'individuazione di 20 soggetti, alcuni anche minorenni, accusati a vario titolo di violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di due vittime minorenni, alcuni dei quali legati da parenteli a vari esponenti di vertice delle cosche di Indrangheta. Proseguendo le indagini, i poliziotti hanno scoperto svariati e reiterati episodi di vessazione subita da una delle due giovani vittime, da parte dei propri familiari, in particolare del fratello, della sorella e dei rispettivi compagni, che hanno costantemente tentato di osticolare la sua collaborazione con gli investigatori, cercando di farla ritrattare, in parte disattivando la scheda telefonica, costringendola a sottoporsi a visite psichiatriche con il chiaro intento di ottenere una certificazione medica sulla sua non capacità di intendere e di volere, rendendone così inutilizzabile e inaccettabile le dichiarazioni.